Musica 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 Alla FC Troppi Parieta, dal maestro Franco Piccolito, un applauso a Soprano, a Soprano Emanuela Maria Palazzo e al tesore Salvatore Vichiello. Allora l'ultimo frano in assoluto, Radetti Marche. Pensate un po' che questo frano, io vado il piacere da ragazzo, non sono vecchio, però ho suonato con i più grandi besti delle bandi pugliesi, con il maestro Centofanti, con il maestro Franco e una volta mi capivo, è vero, andammo a suonare, non penso, si unavano a prezziare la recessione, sta a base, Marcello Roschi, venne un signore, no, no, non l'avevo dovuto suonare, c'era quello del comitato, cioè la chiesta, no, no, perché venne scritta quando gli austriaci battirono i piemontesi e gli italiani nella seconda guerra dell'Operenza e il marcello Braneschi tolva il padre e il strauss come ripostava la musica. Però pensate un po' alla grandezza della musica. Meno di cento anni fa eravamo a Cerni i miei nemici, adesso siamo amici, fraterni nella stessa moneta, nella stessa condivisione politica e soprattutto la musica anticipata, molto spesso quello che poi i politici hanno fatto. Noi lo facciamo con le mani, l'hanno fatto sicuramente a Vienna, noi siamo una piccola Vienna, va bene? Grazie. 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 Grazie.